Ciao ragazzi, bene, allora ma quando noi decidiamo di adottare una coppia di cani da guardia, abbiamo fatto o no questa considerazione, o meglio ci siamo fatti o no questa domanda, ma noi temiamo per l'incolumità dei nostri familiari oppure no? Perché sempre più spesso le persone mi chiamano e mi dicono che vorrebbero prendere una coppia di cani da guardia, poi mi elencano una serie di ostacoli mentali che secondo loro io dovrei riuscire a farli superare affinché prendano la decisione definitiva, forse perché si ha in testa che ci sia sempre questo grande interesse da parte del venditore a vendere un cane, una coppia di cani e quindi la persona che non è ancora proprio convinta si rivolge al venditore per farsi convincere, però non è il modo con il quale io ho lavorato in tutti questi anni e continuo a vivere, io voglio dare i miei cani da guardia solo a quelle persone che sentono veramente elevata l'esigenza di mettere al sicuro la famiglia, questo è il primo obiettivo. Poi il fatto che si possano avere altri cani e che bisogna cercare una compatibilità caratteriale fra quei cani, non sarà una cosa automatica, non sarà una cosa immediata, non è il venditore fra virgolette onesto che vi può garantire questo perché se il venditore non conosce il carattere dei cani che voi avete, quali saranno le interazioni, le compatibilità, ruolo di branco, i livelli di dominanza eccetera, qualsiasi risposta che vi dà non ha senso perché sono cose che si possono poi solo stabilire dopo, quello che si può fare è organizzare il territorio affinché in modo graduale si faccia il possibile che poi tutti i cani possano in qualche modo convivere. Stessa cosa con altri animali da cortile, stessa cosa appunto con i gatti, stessa cosa con tutte quelle barriere che a volte ostacolano la decisione definitiva. Cosa è importante però farsi una domanda definitiva è questa, quanto ho paura io che se i ladri mi dovessero entrare una notte o peggio ancora quando io non sono in casa e ci sono i familiari potrebbero essendo dei malviventi creare dei problemi anche solo psicologici ma spesso sono gravi problemi psicologici a questi familiari perché se la risposta è no, non ho paura, non credo che mi capiti, ai miei amici non è mai capitato, in tutta la mia vita non mi è mai capitato ma non andatevi a prendere un cane da guardia quando voi volete un cane da compagnia, cioè prendersi un cane solo perché piace esteticamente è l'errore più grande che hanno sempre fatto le persone. Se io non vado a caccia perché devo adottare come cani da tenere in casa o nel cortile cani da caccia che sicuramente rincorreranno tutte le prede, spesso non saranno facili da far ubbidire, se mi scappano magari prendono un bosco o un campo di grano turco li trovo poi il giorno dopo, tireranno magari al guinzaglio, abbaieranno più del dovuto eccetera quando magari ci sono altre razze. Perché prendere cani che potrebbero andare bene a tirare le slitte, quando io non farò mai slit dog e mi lamenterò poi tutta la vita che questi cani hanno un carattere molto particolare e magari tireranno al guinzaglio. Perché far questo partendo da una fotografia? Stessa cosa non sembra vero, anche sui cani da guardia si fa questa considerazione, si vuole partire dal presupposto che se un cane, noi l'abbiamo visto protagonista di un film, compro il cane, compro quella razza e poi potrò scegliere io cosa fargli fare. Ma questa è la bugia più grande del mondo, cani di qualsiasi razza ma non solo, soggetti della stessa cucciolata purché sempre figli degli stessi genitori, nascono con caratteristiche completamente diverse e questo è loro vero e proprio per poi gli addestratori piuttosto che gli educatori cinofili comportamentalisti. Perché le persone hanno preso un cane, in realtà gliene serviva un altro completamente, a un certo punto esausti da quelli che sono tutti disagi che sono portati da cani incompatibili con le vostre condizioni ambientali, allora provano magari in una prima battuta a rivolgersi a dei professionisti, immaginano e a volte maldestramente vengono promessi che si possano fare miracoli contro la natura proprio intrinseca, genetica dell'animale, di quel soggetto che non ha nulla a che vedere con un altro soggetto identico ma magari il fratello e tutto dopo porta al fatto che si vogliono disfare dei cani. Se a me piacciono molto i lupi ma perché devo andare a prendere cani lupici con slovacchi se poi non ho il posto idoneo da tenerlo, non ho delle recinzioni capienti, non ho un sacco. E perché prendere proprio un cane che magari ha caratteristiche del lupo e avverso a tutto e volarlo far diventare un cane da città addestrato nei minimi dettagli socievole quando lo dice già il nome cane, lupo, cieco, slovacco e sappiamo che nella genetica c'è l'animale selvatico. Di conseguenza anche con i cani da guardia non andatevi a comprare i cani da guardia nel momento in cui non avvertiate proprio sulla vostra pelle una sorta di angoscia che vi porta ad avere paura e quindi volete risolvere questo aspetto del vostro benessere psicologico, della vostra vita nel proteggere i familiari. Se siete sicuri, se non avete paura, se siete tranquilli, cani da guardia non li dovete adottare, ci sono tante altre tipologie. Ecco, vi volevo e vi ho programmato e fatto questo filmato come risposta un po' definitiva a quelli che mi dicono, mi piacerebbe tanto prendere i suoi cani però due punti a capo, 8000 cose che non c'entrano niente con ciò che offrono i cani da guardia. I cani da guardia vengono presi solitamente quando si teme per l'incolumità dei familiari, tant'è che domani farò poi proprio questo filmato per spiegare, come ho già fatto altre volte, cioè quando noi vogliamo prendere i cani da guardia, se li vogliamo prendere prima che ci accadono le cose, se vogliamo poi prenderceli solo dopo che ci sono accaduti e anche quella è una scelta che dobbiamo fare. Bene, vi ringrazio anche oggi di avermi ascoltato e vi auguro a tutti buona giornata. A presto!